Un incredibile gesto è avvenuto a Castrofilippo, a Rotino taglia il braccio a un familiare e il colpevole viene arrestato dai carabinieri. Una notte di sangue, quella che tra sabato e domenica scorsa a Castrofilippo è avvenuto, dove una lite scoppiata in strada tra alcuni appartenenti alla famiglia dei nomadi camminanti, imparentati tra loro e degenerati in una scena di violenza cruenta. Tutto è iniziato quando due pluri pregiudicati dalle iniziali GR del 64 e PR dell'89, animati da futili motivi, si sono affrontati per strada, a pochi metri dalle rispettive abitazioni. I due venivano immediatamente alle mani, interveniva in difesa così il secondo pluri pregiudicato dalle iniziali GG del 78, all'arrivo del quale il GR correva a casa, si armava e tornava in strada, dove prima esplodeva alcuni colpi di carabina d'aria compressa contro gli altri due e poi, brandendo un coltellaccio da macellaio, si avventava contro GG, che colpiva al volto con vendenti micidiali, uno dei quali si abbatteva sul braccio sinistro della vittima, tranciandogli di netto i tendini. I carabinieri della stazione di Castrofilippo, della radiomobile della compagnia di Canicattì, inviati immediatamente dalla centrale operativa, dove erano giunte numerose segnalazioni dell'accaduto, soccorrevano le vittime, identificavano rapidamente GR, a casa del quale, in corso di perquisizione, sequestrarono le armi usate poco prima. Il coltello con la lama di ben 48 centimetri era stato occultato sotto un armadio, ancora sporco di sangue. L'uomo viveva nella comunità dei nomadi camminanti e, conosciuto come arrotino, veniva trovato in possesso di lame e coltelli. I medici dell'ospedale di Canicattì giudicavano le ferite di PR guaribili in 15 giorni, mentre per il GG si riservavano la prognosi, disponendo immediatamente il suo trasferimento presso il civico di Palermo, dove, con un delicato intervento chirurgico, si tenderà di restituirgli la funzionalità del braccio, rimasto fortunosamente attaccato al corpo. GR, tratto in arresto dai carabinieri, e rinchiuso all'alba del domenica scorsa nel carcere di Enna, visto aggravarsi la propria pesante posizione. Per la procura della Repubblica di Agrigento, l'accusa è tentato omicidio pluriaggravato, per rispondere della quale il fermato comparirà nelle prossime ore davanti al GIP del Tribunale.